Ciao ragazzi, cosa succede? Oggi ho cominciato un nuovo appuntamento con questo per questo canale abbiamo cominciato a ricordare i libri che i fotografi mi vendano e ho ricevuto ieri questo libro da un amico Zioao Zero e questo libro è fantastico un libro dove in black and white è celebrato un certo tipo di fotografia strada come potete vedere e ha messo una dedicazione a me qui e ho ricevuto questo da Portugale dove è nato e è un libro fantastico e è un libro ho fatto in ultimo scritto sul lavoro di Shioao Zero mi ha chiesto mi ha chiesto di scrivere una critica sull'attività sull'attività e sull'attività 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 dei sull'attività 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 Per esempio, credo che il lavoro che produce, posso fare una connessione con Phil Penman, sono fotografi che possono essere definiti come fotografi di arte di fine art, con questi bambini e bambini dove la parte del campo è molto importante e presente nelle loro composizioni. Non voglio mostrare tutto il libro, ma alcune foto devono essere mostrata. Questo è il tipo di cose che vedrai in questo libro. Il Colosseum in Roma, voglio mostrare questa foto perché è uno dei miei favoriti di questo libro. E anche Alan Schaller fa questo tipo di bambini e bambini. Il bambini e bambini è molto bambini in molte delle composizioni, dove le parti negativi nel campo sono parte del campo, sono essenziali, cruciali nella economia del campo. Quindi vediamo molti bambini nelle foto che, in mio opinione, sono interessanti a vedere. Grazie a tutti. Andiamo. Il gruppetto di fotografia nero e bambini che potrebbero interessarsi a un certo tipo di persone apreciando un certo approccio. le foto presentano il soggetto molto molto distante quindi è un tipo di fotografia che è differente da quel tipo di fotografia di strada che vuole arrivare più vicino come possibile quindi credo che è un altro tipo di fotografia è una fotografia di strada di fine art il tipo di fotografia che molte volte vediamo è celebrato da Leica per esempio, la fotografia con camere Nikon DSLR ma è il flavor, il mood che è tipico di questo tipo di fotografia che molte volte vediamo nel blog Leica e in certi dove la fotografia di fine art è considerata un must questo è un libro che apprecia come foto editor perché vedo che c'è consistenza nel suo lavoro e in questo tipo di fotografia a volte tendiamo a perdere l'importanza della consistenza ma ogni foto qui è proposta nel stesso formato che è importante che è importante che è importante quando presentiamo il lavoro in un libro come foto editor come foto editor come foto editor vedo che molte parole sono presentate non in un modo consistente non in un modo consistente ma il formato per presentare il stesso formato delle foto è molto importante quindi credo che questo libro di fotografia è peculiare è un lavoro che presenta adesso non so non so quanto sono in questo libro sono in questo libro a parte del fatto che è numerato ci sono 200 copie e la mia è il numero 184 non so quanto sono in questo libro quanto sono in questo libro penso che 100 sono in questo libro questo libro è un grande libro anche mi piace il formato come è organizzato il libro viene con tre carri che sono abbastanza abbastanza mi piace questo libro è arrivato l'esterno devo vedere ancora e ancora ma vorrei condividere alcune impressione alcune pensazioni su questo libro con voi questo è l'episodio dedicato al lavoro dei fotografi che facendo fotografi quindi penso che questa colonna può rappresentare qualcosa molto interessante nella pagina di alexkoge.com potete trovare la pagina se vuoi presentare la mia audience questo canale il tuo canale il tuo molto importante è importante introdurare i fotografi contemporanei più che i maestri i maestri hanno una quotazione e molti sono molto expensive ma il focus di questo canale per me sarà dare exposizione ai fotografi dei siete pronti per vendere il tuo fotografo perché vi darò un'esposizione parleremo del tuo fotografo su YouTube penso che i fotografi per esempio considero il naturale per mettere le mie fotografi fotografi sono fotografi ok per essere in un'art galleria ho fatto molto ma come scrittura e fotografa il mio principale è il libro e penso che molti fotografi pensano anche che per celebrare fotografi con loro can essere un'opportunità per parlare della cultura della fotografia perché molti vediamo molti video su camera ma qui parliamo della cultura che è qualcosa più interessante più importante e più inspirante per altri fotografi quindi lascio ancora con questo libro che mi consiglio non so quante copie sono disponibili per contattare Joao Zero su sua website e penso è joao zero dot com potete contattare questo libro che mi raccomando è un libro che sarà parte della mia collezione che cresce più e più con pezzi quindi se volete vendere il libro in questo canale grazie per ascoltare questo primo episodio spero che avremo più opportunità parlare su altri fotografi l'ultimo può essere te grazie per guardare questo vediamo prossimo grazie a prossimo